Nella tarda mattinata di oggi, dopo circa dieci mesi di lavori, è stato riaperto al traffico il ponte lungo di Brisighella. Finalmente, le città collinari saranno nuovamente collegate alla vallata dell'Amone e viceversa. Impegnativi lavori di ristrutturazione hanno trasformato il vecchio e stretto ponte ad arco in una struttura antisismica con un piano viabile di ampia sezione e rispondente alle più recenti norme e tecniche di sicurezza. Nelle giornate di venerdì e sabato scorsi è stato effettuato il collaudo, che ha dato ottimi risultati, consentendo all'ingegnere collaudatore di autorizzare il transito dei veicoli. Ieri, l'impresa appaltatrice ha terminato i lavori di finitura sulla rampa di accesso al ponte, lato Faenza, rendendo agibile l'intero tratto della strada provinciale 302 Brisighellese-Ravennate, che fu interdetto al traffico nel giugno del 2013. La complessa opera di ristrutturazione è costata 2,6 milioni di euro, interamente finanziati dalla regione, e ha interessato l'intera struttura, dalle fondazioni all'impalcato. Le due piste pedonali ciclabili ai lati del ponte non sono ancora percorribili, ma almeno i mezzi motorizzati non saranno più obbligati a percorrere le scomode deviazioni di Sarna e della Bretella. Bisogna sottolineare la positiva conclusione di un cantiere che, nonostante le difficoltà incontrate a vario titolo dagli appaltatori e i pesanti effetti sugli enti locali del patto di stabilità, la provincia ha concluso tra mille ostacoli.